Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. C'è la pagina della cronaca in apertura. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri del Rosso dell'Aquila con l'accusa di corruzione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, peculato, abuso di ufficio e falso ideologico in atti pubblici nell'ambito dell'inchiesta sull'assegnazione degli appalti per le opere di ristrutturazione messe in sicurezza post-sisma delle scuole fuori cratere di Avezzano e Sulmona. Tra gli arresti quello del direttore generale della provincia dell'Aquila. Vediamo. Ed è un nuovo terremoto giudiziario quello che si è abbattuto sulla provincia dell'Aquila. arrestati questa mattina il direttore generale della provincia Walter Specchio ed altri due imprenditori di Foggia per dei lavori di messa in sicurezza e ampliamento del liceo scientifico di Avezzano. Un terremoto giudiziario che ha costretto i dipendenti della provincia a rimanere fuori in attesa che all'interno del palazzo gli agenti del Rosso, della squadra mobile dell'Aquila e della Polizia Tributaria e della Guardia di Finanza sequestrino tutto l'incartamento al centro dell'inchiesta giudiziaria. Il provvedimento è stato emesso dal GIP Giuseppe Romano Gargarella firmato dai sostituti procuratori Stefano Gallo, David Mancini e Roberto Davoglio. Ed insieme al direttore generale della provincia dell'Aquila Walter Angelo Specchio appunto le manette sono scattate anche per Gian Costantino Pischedda procuratore speciale di un'impresa di costruzioni con sede a Cagliari e giudicataria della gara d'appalto per la messa in sicurezza e l'ampliamento del liceo scientifico Vitruvio Poglione di Avezzano e Rossano Franco Palazzo, legale rappresentante di una società di impianti tecnologici con sede a Foggia. Le accuse per tutti sono di corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, peculato, abuso d'ufficio e falso ideologico in atti pubblici. Oggi si sono entrati ma ai dipendenti non è stato concesso di salire perché hanno arrestato il direttore generale. Come avete appreso la notizia? Io sono arrivata alle 8.30 e ho visto di tutto di più e ho chiesto come mai e ho detto Giovanna io sono qui all'atrio, ho le relazioni col pubblico e ho detto Giovanna non si può entrare, non si può salire, non so altro. C'era la polizia, c'erano i carabinieri? C'è tutto, polizia, carabinieri, finanza, Dicos, eccetera, di tutto. E subito dopo la conferenza stampa del presidente della provincia dell'Aquila Antonio del Corvo che ha annunciato a breve la sostituzione del direttore generale Walter Angelo Specchio. Sentiamo. Noi dovremmo dare dei messaggi soprattutto per quanto riguarda la cittadinanza perché provvederemo nei prossimi giorni ovviamente a sostituire la figura del direttore perché l'azione amministrativa deve andare avanti. Ci sono tante altre cose che oltre a questo è oggetto di indagine che non possono permettersi assolutamente di bloccarsi e la figura del direttore in un organigramma come quello dell'amministrazione provinciale è una figura importante. Nello stesso tempo abbiamo dato massima disponibilità alla magistratura per acquisire tutti gli atti e notizie che possono essere indispensabili all'indagine. Ci riserviamo ovviamente all'esito dell'indagine nel momento in cui dovesse emergere che ci sono state delle lezioni per quanto riguarda l'interesse dell'amministrazione provinciale di attivarci per poter tutelare l'interesse dell'amministrazione provinciale. Questo è quello che oggi ci sentiamo di dire. Le forze dell'ordine cosa li hanno notificato, Presidente? Hanno notificato al segretario generale un ordine del magistrato per la perquisizione di alcuni uffici della provincia, in particolare gli uffici della direzione generale e della ragioneria. Ancora a cronaca, un romeno di 25 anni è morto folgorato la notte scorsa mentre cercava di rubare i cavi elettrici di rame da una cabina dell'alta tensione di un capannone industriale incontrato a Cerreto a Miglianico. L'uomo era in compagnia di altri tre connazionali di 21, 27 e 30 anni che sono stati denunciati in stato di libertà con l'accusa di concorso in tentato furto aggravato. A ricostruire l'accaduto sono stati i carabinieri della stazione di Miglianico. I militari hanno accertato che il 25enne verso le 23 e 30 di ieri aveva tentato di rubare i cavi dell'alta tensione con la complicità dei suoi connazionali rimanendo però folgorato all'istante. A trasportarlo presso il pronto soccorso dell'ospedale di Pescara sono stati i suoi amici ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. La provincia di Chieti vende beni immobili per 25 milioni di euro tra ex scuole, caserme ed ex case e cantoniere. Oggi la presentazione. La provincia di Chieti mette all'asta beni immobili per un valore di 25 milioni di euro. Lo ha annunciato il presidente Enrico Di Giuseppe Antonio motivando l'azione come indispensabile per reperire liquidità utile a ripianare i debiti e compensare i tagli dello Stato e della Regione. Soprattutto, ha detto il presidente, la provincia ha bisogno di fondi per tornare a investire sulla sicurezza di strade e scuole. Tra i beni posti in vendita suddivisi in 24 lotti ci sono alcuni complessi immobiliari che sono stati oggetto di specifici progetti di valorizzazione che ne ha stabilito nuove destinazioni d'uso rispettando i parametri della sostenibilità e dell'impatto ambientale urbanistico. Molte le aree a uso residenziale. A Lanciano sono in vendita l'ex succursale del liceo scientifico e l'ex sede dei Vigi del Fuoco. A Paglieta l'ex istituto agrario, a Chieti l'ex ospedale la caserma dei Carabinieri, appartamenti e garage. A Datessa, Bucchianico, Borrello, Sante Usagno del Sangro, Casa Canditella, Fara San Martino e Palena si vendono le ex case cantoniere. Sono due pagine storiche importanti che scriviamo anche alla luce di quello che sta succedendo alle province italiane. La prima pagina è che finalmente abbiamo l'inventario del patrimonio del nostro ente, che sfuggiva anche al controllo degli uffici. Tant'è che abbiamo trovato garage occupati abusivamente, terreni coltivati senza autorizzazione, affitti non pagati. Abbiamo praticamente censito tutto per un valore fiscale di circa 120 milioni che commercialmente potrebbe avere un valore di oltre 700 milioni. La seconda pagina è che facciamo un'operazione di vendita molto importante per 25 milioni, 24 lotti tra terreni ed edifici di nostra proprietà messi sul mercato, credo anche in modo conveniente e che praticamente questi soldi dovrebbero servire a pagare gli ingenti debiti che la provincia da me amministrata ha ereditato ma anche e soprattutto tornare ad investire sulle strade e sul patrimonio scolastico. Vogliamo appunto scuole più sicure e strade da migliorare. Lo stiamo facendo con tantissimi sacrifici, come oramai tutti sanno. Negli ultimi tre anni, oltre ai debiti, dobbiamo fare i conti con i minori trasferimenti da parte dello Stato, che in tre anni sono di circa 14 milioni, l'assenza di trasferimenti da parte della Regione, soprattutto per le strade. Contiamo veramente che gli acquirenti possano trovare convenienza nell'acquistare un patrimonio di valore che è situato nei centri anche più importanti della nostra provincia. Inizia una raccolta di firme nei negozi e anche nelle parrocchie, con fesercenti, CEI e sindacati, insieme per un referendum di iniziativa popolare sulla regolamentazione delle aperture festive e degli esercizi commerciali. C'era una volta il Terzo Comandamento, quello che ordinava di santificare le feste. Ora invece la domenica è diventata un giorno come un altro. La conferenza episcopale italiana e la Confesercenti, insieme ai sindacati, scendono in campo per una nuova regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali. Perché non è vero, dicono, che con le aperture festive si crea più occupazione. Nei primi nove mesi dell'anno, secondo un'indagine di Confesercenti, sono state chiuse 2.295 aziende commerciali, con saldo negativo per 1.075 unità e consumi in forte calo. La nuova alleanza non chiede il blocco totale delle aperture domenicali perché sarebbe illogico. Chiede invece una nuova regolamentazione che dia l'opportunità di restare aperti quando il mercato lo richiede, ma che tuteli il diritto della media e piccola distribuzione commerciale a fare impresa, a mantenere l'occupazione, a svilupparsi. Diritto che diventa impossibile, è stato detto in conferenza stampa dai rappresentanti dell'associazione di categoria, con una deregolamentazione selvaggia delle aperture festive, che fa bene solo ed esclusivamente alla grande distribuzione e che è un caso unico in Europa, con cui si rischia di travolgere 80.000 negozi in tutta Italia nei prossimi 5 anni, con effetti pesanti in Abruzzo, che vanta il triste primato di essere una delle regioni a più alta concentrazione di centri commerciali. Nei negozi come nelle parrocchie, con la campagna Libera la Domenica, si raccoglieranno le firme necessarie per il referendum di iniziativa popolare. Enzo Giammarino, direttore confessercente Abruzzo. Certo, noi non immaginiamo che questo possa essere per tutte le domeniche, ma non si può pensare che cominciamo ad aprire i negozi a Pasqua, a Natale, la vigilia di Pasqua, la vigilia di Natale, Santo Stefano, il primo maccio. Questo non deve essere possibile, diseduchiamo le future e le nuove generazioni, facciamo in modo che plasticamente loro possano assimilare solo quello che non risponde, non corrisponde alle ragioni per le quali in una società ci si mette insieme per costituire una società organizzata. Noi siamo fermamente contrari, devo dire oggi che registriamo il contributo della Chiesa, ma anche e soprattutto quello unitario di CGL e di Cislequilli, per cui Chiesa, lavoratori, imprenditori, riaprono un campo che produrrà quando meno più attenzione immediatamente su questo tema, io penso in futuro anche una modifica della legge. Una rapina è stata compiuta questa mattina, poco dopo l'apertura ai danni della filiale di Madonna delle Piane a Chieti, della Carichieti. Due persone a volto coperto e armate di taglierino sono entrate nella banca e si sono impossessate di circa 5.000 euro, quindi sono fuggite a bordo di un'auto di piccola cilindrata. Indagini sono in corso da parte della squadra mobile della Questura di Chieti. A Pescara ha presentato il progetto di legge regionale che prevede 300.000 euro di aiuti economici alle imprese operanti nel settore terziario e portuale del porto di Pescara a parziale copertura delle perdite economiche causate dal mancato dragaggio dei fondali. Concedere un aiuto economico per un totale di 300.000 euro alle imprese operanti nel settore terziario e portuali che gravitano attorno al porto di Pescara come parziale copertura delle perdite economiche derivanti dal mancato dragaggio dei fondali. E quanto prevede il progetto di legge regionale presentato dalla consigliera Marinella Sclocco del PD? I dettagli del progetto sono stati illustrati alla stampa, presenti oltre al vicepresidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci e Bruno Santori, anche l'imprenditore Giancarlo Pelusi, Maurizio Marini della Compagnia Portuale, Francesco Scordella in rappresentanza della marineria pescarese. Secondo firmatario del progetto di legge, annunciato Sclocco, sarà l'assessore regionale alla pesca Mauro Febbo, mentre la proposta è già stata firmata da tutto il gruppo PD. Come regione propongo questa legge, come consigliere regionale propongo questa legge che prevede circa 300.000 euro da destinare a parziale e ristoro del danno subito a causa del dragaggio. Il mancato dragaggio ha causato gravi problemi certamente alla marineria ma anche alle imprese che gravitavano intorno al porto di Pescara. Si tratta di una ventina di imprese che hanno chiuso i battenti un anno fa, quindi decine di famiglie rimaste senza lavoro. Dunque sono previste circa 300.000 euro per un ristoro parziale rispetto al danno subito, con la promessa della Camera di Commercio per cui questa cifra dovrebbe aumentare. Un 33enne di Lanciano è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l'accusa di guida in stato di ebrezza. L'uomo la scorsa notte, mentre percorreva la strada provinciale nel comune di Santi Osagno del Sangro, ha quasi travolto frontalmente a un'altra auto che arrivava nel senso di marcia opposto, in prossimità di una curva. Il 33enne non ha riportato alcun trauma, mentre gli occupanti dell'altra vettura, che si è ribaltata più volte finendo fuoristrada, sono stati trasportati al vicino ospedale. Uno dei due è tuttora in osservazione, mentre l'altro ha avuto una prognosi di 10 giorni. I carabinieri hanno accertato che il 33enne aveva un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti dalla legge. La pagina dello sport, il calcio, Pescara, cade a Napoli, ma per un tempo dà prova di carattere e organizzazione. Domenica prossima con il Genoa sarà scontro salvezza. E dopo la Serie A apriamo un'ampia finestra sulla Lega Pro e iniziamo con l'Aquila Gavorrano. Non si ferma la corsa dell'Aquila Calcio, targata Maurizio Ianni, che supera a domicilio e il Gavorrano per 2-0, in anella la terza vittoria consecutiva e si issa a meno due dal terzetto di testa formato da Aprilia, Pontedera e Salernitana. Nell'Aquila non ci sono lo squalificato Iannini e Mucciante fermato da un attacco febbrile. Li sostituiscono Menicozzo e Ingrosso, mentre Agnello ritrova il suo posto in mediana dopo lo stop di sette giorni fa. Gavorrano con otto under in campo ed un 4-3-1-2 in cui Gurma e Losicco dovrebbero fare la differenza. L'Aquila inizia subito forte, terzo minuto imbucata per Infantino che elude il fuorigioco e si presenta solo davanti ad Addario, bravo a chiudergli la linea di tiro. È il preludio al gol che arriva al decimo minuto, Agnello a metà campo vede lo scatto ancora di Infantino e lo serve. Il centroavanti Aquilano aggancia palla e vedendo Addario proteso in uscita lo beffa con un destro indirizzato sul palo lungo. 5 minuti ed arriva il raddoppio, Rapisarda recupera il pallone, verticalizza il gioco e poi sale in proiezione offensiva. Agnello è bravo a seguire il movimento del terzino Aquilano servendolo sulla corsa e dandogli modo di incunearsi tra le maglie della difesa del Gavorrano e di superare Addario con un diagonale chirurgico. Avanti di due reti l'Aquila non si limita ad amministrare la gara ma cerca anche la terza marcatura, in particolare con Infantino. Il numero 9 Aquilano dapprima recupera una palla vagante ma al momento del tiro si vede coprire lo spazio dall'uscita di Addario mentre qualche minuto dopo conclude a botta sicura ma trova l'opposizione, stavolta con il piede, da parte dell'estremo difensore minerario. Nella prima frazione di gioco il Gavorrano si segnala solamente per un'azione personale di Gurma che prova di impensierire testa con un tiro teso scagliato da circa 30 metri. La palla si perde però sul fondo. L'inizio della ripresa pare ricalcare il copione della prima frazione, un giro di lancette e l'Aquila si fa subito pericolosa. Rasoterra di Agnello, respinta di Addario e difesa che si rifugia in angolo sul tentativo di tapin dello stesso mediano Aquilano. Con il passare dei minuti il Gavorrano prova a prendere campo e si fa un po' più intraprendente anche grazie all'ingresso della terza punta, Peluso. Al decimo minuto infatti parte dai suoi piedi il cross su cui Gurma riesce ad anticipare testa dando modo a Nocciolini di concludere a rete. La punta del Gavorrano perde però l'attimo e la difesa aquilana riesce ad alleggerire in corner. Al ventisettesimo i padroni di casa avrebbero la grande occasione per tornare in partita ma Zane, ben liberatosi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, conclude l'azione cogliendo in pieno la traversa. Ad accendere il finale di gara un cartellino rosso per parte. Il signor Colarossi di Roma 2 infatti prima manda sotto la doccia Rapisarda che già a Monito commette un fallo intenzionale a metà campo, poi estrae il secondo giallo anche per Tognarelli, reo di un duro intervento sul triarico. I padroni di casa provano fino all'ultimo a riaprire la contesa. Nel primo dei cinque minuti di recupero concessi da Colarossi, testa viene impegnato severamente per ben tre occasioni nel corso della stessa azione, ma riesce a ribattere colpo su colpo gli attacchi degli avanti minerari, salvo poi capitolare sulla conclusione di Moscati nell'ultimo dei cinque giri di lancette. Conclusione però inutile in quanto il gioco era stato fermato per fuorigioco dal direttore di gara. Ed ora il Chieti che vince in casa con Borgo Abugiano e a Proda in zona playoff. Vediamo. Il tabù dell'Angelini viene sfatato ad una manciata di minuti dalla fine, quando il generoso Chieti, non bellissimo sul piano estetico ma mai d'omo, piazza la stoccata da tre punti. L'urlo di gioia del popolo neroverde lo fa salire Gandelli, un difensore che spedisce in porta a un rifornimento di Alessandro. Il successo della squadra di De Patre, seppur sofferto per come si sviluppa il match, appare la logica a conclusione di una partita condotta con piglio autoritario, soprattutto nel corso della ripresa, dopo il pari dei toscani. In avvio De Patre propone lo stesso modulo tattico di Lamezia con la difesa a tre, con i due laterali Bigoni e Gandelli avanzati in mediana e con Mungo che gioca da terzo attaccante. L'avvio però è di marca toscana, almeno sul piano delle opportunità. Non è trascorso nemmeno un minuto quando Dimas, con un fendente dalla distanza, scalda Feola. Il portiere di casa deve fare gli straordinari poco dopo, quando si esibisce in due interventi in rapida sequenza, prima sul sinistro di Nolè, poi sul tapin ravvicinato di Santini. Assorbiti senza conseguenze, i rischi iniziali, il Chieti alla prima occasione sfiora il vantaggio. Sulla punizione di Vitone in area si accende una mischia furibonda. La palla buona capita sui piedi di Di Filippo, ma la battuta a colpo sicuro viene ribattuta dal muro ospite. Neroverdi ancora ficcanti al quattordicesimo. Gandelli, uno dei migliori, rifinisce per De Sosa. Tonti è avventato nell'uscita, ma in ogni caso è efficace nel contenere la conclusione. La squadra di De Patria accompagna spesso in fase di possesso con i due esterni, ma rischia qualcosa in contropiede. Al venticinquesimo il borgo a Bugiano mette i brividi in contropiede. La staffilata di Dimas, forse destinata in porta, colpisce Santini in fuorigioco e termina sul fondo. Al trentaduesimo però il Chieti passa. Bigoni, sempre pungente sulla corsia laterale, effettuano cross invitante per De Sosa, che di testa spedisce nel sacco. La reazione ospite è immediata. Protestano i toscani al trentacinquesimo per il contatto in area tra Feola e Nolè, ma il direttore di gara concede solo il calcio d'angolo. La ripresa nasce sulla stessa falsariga. È deliziosa l'iniziativa all'undicesimo di Alessandro e il giocatore brasiliano stoppa a seguire e poi conclude. La palla colpisce il palo esterno. Sul rovesciamento di fronte il borgo pareggia. La difesa di casa appare disattenta, mentre Dimas rifinisce per Nolè, che entra in area e mette dentro. Punto nell'orgoglio il Chieti ha una reazione vehemente. Al sedicesimo De Sosa si esibisce una rovesciata, tonti e reattivo nella respinta, mentre qualche istante più tardi il bomber brasiliano non è fortunato. La sua girata ravvicinata colpisce in pieno il palo. Il Chieti, non sempre lucido, continua a spingere, mentre il borgo abbugiano, che pregusta il pari, pensa soprattutto a chiudere gli spazi. L'assalto al fortino avversario viene premiato al trentasettesimo. Alessandro, che in attacco punge poco, veste invece i panni dell'assistman per la battuta di destro di Gandelli, che spedisce il pallone a mezza altezza. Per il Chieti, reduce da tre sconfitte di fila in casa e una liberazione. L'Angelini torna a sorridere, mentre i Neroverdi incassano tre punti utili per rilanciarsi nella zona playoff. Ancora Lega Pro, vediamo la scheda del pareggio Teramo-Campobasso. Il Teramo può solo rimproverare se stesso se non sono arrivati i tre punti dalla sfida contro il Campobasso. Questa volta affrontare l'ultimo in classifica non è fatale per i biancorossi di Cappellacci, come è stato contro l'Interreggio. Ma il Teramo non può fare altro che recitare il mea culpa per come è tornato in campo dopo un primo tempo, come ammetterà poi Mr. Vullo, che ha fatto venire il mal di testa ai molisani. Nessuna novità di formazione nel Teramo sceso in campo sette giorni prima a Mugnano contro l'Arzanese, se non per il ritorno in campo dopo la squalifica di Ferrani. Nel Campobasso di Vullo fa invece il suo esordio il difensore classe 86 Marco Petrassi. Il Teramo propone il solito possesso palla a cercare di scardinare le maglie difensive del Campobasso. Questa volta però, grazie alla verve di Di Paolantonio, non è sterile come in altre occasioni. Reghini, preferito ancora una volta a Novinic, va al tiro al diciassettesimo. Giuliano accompagna fuori senza problemi. Quattro minuti più tardi il Teramo prova lo schema. Da calcio di punizione Coletti serve Di Paolantonio, che tutto solo non riesce ad impattare bene il pallone ed indirizzarlo verso la porta. Il Campobasso ha troppa fretta di buttarsi in avanti e lo schema palla lunga verso Busio di vicino non crea particolari apprezzioni alla retroguardia biancorossa. Al trentatreesimo un doppio patierno fa vedere i sorci verdi a Giuliano. Il numero nove del Teramo costringe l'estremo difensore dapprima a rifugiarsi in angolo e poi di riflesso a togliere da in fondo al sacco un gol che sembrava fatto. È solo questione di tempo però. Al quarantesimo il direttore di gara dapprima assegna il rigore per questo fallo di mano, poi però giustamente assegna punizione dal limite senza però ammonire il lupo. Ci pensa Coletti a mandare la palla in fondo al sacco e a dedicare la rete al figlio che verrà. Prima dello scadere del primo tempo Valentini ha l'occasionissima per portare il Teramo sul doppio vantaggio ma Giuliano chiude con un'ottima scelta di tempo sul capitano biancorosso. La ripresa è tutta altra storia perché la verve dei primi 45 minuti di gioco dei biancorossi sembra rimanere negli spogliatoi. A decimo Serraiocco è fortunato che il pallone finisca sul fondo e non importa perché l'estremo del Teramo non è assolutamente perfetto nella presa. La pressione degli ospiti aumenta con il passare dei minuti mentre i biancorossi arretano il baricentro e al ventiquattresimo arriva la rete dei lupi. Qualche amnesia difensiva consente a disposito appena entrato di insaccare alle spalle di Serraiocco e portare quindi il puttencio in parità. Saltano gli schemi, saltano le marcature, le squadre giocano a viso aperto. Il Teramo inizia il valsere delle occasioni sprecate con De Stefano al ventottesimo ed è invece fortunato dieci minuti più tardi che Candrina non riesca a indirizzare verso la porta di testa la punizione di vicini. Un minuto più tardi è ancora l'ex Sammenettese a rendersi pericoloso. In mezzo c'è invece tanta paura per Patierno che crolla in aria dopo un duro contrasto di gioco. Tutti i sanitari si buttano in campo, qualche giocatore si mette le mani nei capelli mentre l'ambulanza tarda a partire per avvicinarsi al giocatore del Teramo. Patierno per fortuna si rialza poco dopo ma è stato comunque accompagnato in ospedale per accertamenti. Senza attaccanti in panchina Cappellacci si gioca tutto buttando nella mischia dopo Giazzetta anche il difensore Caidi a fare da punta. Il valsere dell'occasione sciupate continua con Giannetti al 44esimo prosegue con Ferrani poco dopo e si chiude con lo stesso Caidi. Sarebbero stati tre punti importanti per il Teramo che adesso ha davanti a sé il derby contro l'Aquila lunedì 10 dicembre da giocare senza coletti e speranza che diffidati sono stati ammoniti. Questa sera ancora calcio su Telemax con la serie B e casa Virtus. Intanto vi ricordo che il Tg Max e i nostri servizi sono consultabili sul sito tgmax.it È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione, arrivederci. Grazie a tutti.